Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Romina Power è stata ospitata alla trasmissione Verissimo, che ogni sabato va in onda sulle reti Mediaset. La padrona di casa, Silvia Toffanin, l'ha accolta come sempre con molto piacere. Nel corso dell'intervista, a cui erano presenti anche i figli Albano GR e Crystal Carrisi, Romina ha raccontato tutti i momenti più particolari che la sua famiglia ha dovuto affrontare. Momenti davvero intensi vissuti anche accanto ai suoi figli che ama moltissimo. Romina ha raccontato a Silvia Toffanin anche un momento moto particolare della sua vita, ovvero quando ha perso la sorella deceduta purtroppo a causa di una neoplasia. Una vicenda che ha segnato nel profondo Momina Power e che ancora oggi ricorda con molto dispiacere. Tarin Power, nata il 13 settembre 1953, era un'attrice statunitense, figlia del celebre attore Tyrone Power e della sua seconda moglie, l'attrice Linda Christian. Tarin ha deciso da subito di seguire le orme dei genitori, iniziando anche lei a recitare nel panorama cinematografico e televisivo da quando aveva 19 anni. Purtroppo all'età di 67 anni è deceduta a causa della patologia. Un racconto davvero commosso quello di Momina Power che ha colpito molto i fan, quando ha raccontato l'episodio La Power si è molto commosso e si è messa a piangere. I suoi figli l'hanno abbracciata così come la conduttrice che ha capito il momento di commozione intenso vissuto da Romina.